benvenuti a tutti a una nuova puntata una nuova lezione di italiano per tutti in questa lezione parleremo di trasporti e cioè di mezzi pubblici come muoversi in città o tra le città in italia e quali sono i mezzi tipici utilizzati dagli italiani per spostarsi da una città all'altra i mezzi pubblici allora partiamo dal primo dal più famoso e quello più usato anche ovviamente in tante altre città del mondo il treno il treno viaggia su binari che sono in metallo in ferro e servono per dare la strada al viaggio del treno quindi non può diciamo sterzare ma deve seguire una strada già ben decisa prima quando è stata costruita la ferrovia si sposta da una stazione di una città a un'altra e esistono treni tipicamente di due tipi quelli merci cioè quelli che trasportano prodotti alimentari di industria e quelli che trasportano i passeggeri e cioè i treni passeggeri solitamente non sono mai misti quindi o trasportano merci o trasportano passeggeri il treno è composto da una locomotiva cioè il trainante il vagone principale che ha il motore che si chiama appunto anche locomotore e poi dopo questo da vagoni o carrozze dove dentro stanno solitamente i passeggeri ogni vagone o carrozza è all'interno suddivisa in scompartimenti quindi ogni carrozza all'interno avrà delle aree dove si potrà entrare aprendo la porta e andarsi a sedere ci sono vagoni o carrozze anche diversi che sono un tutt'uno con tutti i sedili distribuiti ma in italia si si è soliti vedere soprattutto quelle più vecchie le carrozze avevano degli scompartimenti scompartimenti unici con sei posti di solito quindi sei posti con una porta che si apriva altri sei posti con un'altra porta che si apriva ognuno entrava e stava nel suo scompartimento dentro gli scompartimenti o dentro ai vagoni unici si trovano i sedili dove ci si può sedere che sono disposti in file sul sui corridoi o lateralmente e oppure su scusate sui lati corridoi quindi lateralmente oppure verso i finestrini sopra i sedili c'è una rastrelliera sulla quale si possono mettere i bagagli di fronte ad ogni sedile quasi sempre non è non è così ovvio però ci può essere un tavolino che si alza o si abbassa che è utile per appoggiarci bevande o o altro dopo il treno è molto utilizzato in alcune città d'italia il tram il tram è un mezzo che è identico al treno sostanzialmente perché anche questo viaggia su binari ma non viaggia a lungo solitamente non collega città ma il tram è all'interno di un'area urbana che è la zona più abitata di una città alle volte anzi spesso alcune città grandi hanno delle linee di tram che toccano anche le periferie delle città ma i tram c'è da dire che viaggiano sulle strade come vedete in foto viaggiano sulle strade comuni esattamente dove passano le auto quindi ci saranno dei semafori che daranno la precedenza o lo stop o no ad auto o a tram o viceversa il tram è composto da vetture quindi ogni sezione separata in questo caso non è un vagone perché è un vagone è un po più grande come come immagine in questo caso abbiamo delle vetture dove all'interno ci sono i sedili per sedersi coloro che non si siedono ma che viaggiano in piedi per mancanza di spazio per non cadere durante il viaggio possono tenersi ai corrimano che sono delle aste laterali di ferro oppure agli agganci delle maniglie superiori appunto per non perdere l'equilibrio e cadere c'è da dire che alcuni tram hanno probabilmente anche pochi posti a sedere o magari quasi nessuno e sono adibiti solo a con maniglie con corrimano per i tratti di viaggio che di solito il tram fa un viaggio il cittadino quindi abbastanza breve tipica il tipico viaggio di un urbano di un cittadino è 7 5 6 7 fermate 4 fermate però non è il viaggio lungo come può essere il viaggio di un treno che magari passa da una regione ad un'altra da una città ad un'altra dove di solito ci si siede ovviamente vista la possibilità se c'è posto il tram si sposta tra una fermata e un'altra il prossimo mezzo di trasporto è l'autobus o bus in italiano è un metodo di trasporto urbano segue un percorso specifico quindi una linea viaggia su ruote su pneumatici e questo percorso in questo percorso l'autobus fa delle fermate per far salire o per far scendere i passeggeri ovvio esattamente come non l'abbiamo detto prima ma come il tram e come il treno alcuni passeggeri a certe fermate in questo caso non sono stazioni ferroviarie scenderanno o saliranno l'ultima fermata del percorso è il capolinea arrivato al capolinea solitamente l'autista dice a tutti scendete perché siamo arrivati a capolinea quindi cambieranno i turni l'autobus magari impiegherà magari alcuni minuti alcuni alcuni quarti d'ora ok per poter ripartire per un altro percorso o sulla stessa linea quindi un percorso specifico si chiama linea dell'autobus che di solito è identificato con un numero la linea o con una lettera alle volte anche la linea 15 fa la tratta dalla stazione fino al museo eccetera eccetera all'interno dell'autobus troviamo sedili maniglie corrimano esattamente come trovavamo sul tram troviamo anche l'obliteratrice questa stessa cosa l'abbiamo scritta qui ma valeva anche per il tram e non per il treno ma troviamo l'obliteratrice è un po complicato come termine ma vuol dire timbratrice cioè metto il biglietto mi timbra il biglietto con la data e con l'ora in modo che posso al eventuale controllo dichiarare che ho pagato quel biglietto che è un biglietto un titolo di viaggio ufficiale e quindi ho la possibilità di non essere multato in questo caso che è la cosa più importante dopo l'autobus vediamo che c'è il pullman il pullman è molto simile all'autobus però di solito mentre l'autobus ha meno posti a sedere ed è probabile che ci rimangano per lo più posti in piedi perché come il tram fa brevi tratti cittadini l'autobus scusate il pullman di solito fa delle tratte che sono più lunghe perché lo leggiamo poi dopo sono adibiti per gite turistiche o viaggi di gruppo comunque è dotato di sedili più comodi e non è adibito al trasporto di viaggiatori in piedi infatti come vedete dalla foto abbiamo per lo più delle file doppie di sedili dove si siedono può capitare se che se alcuni autobus sono pieni si vada a sostare nel collidoio centrale però in quel caso verrebbero utilizzati scusate pullman corridoio centrale verrebbero utilizzati degli autobus e non dei pullman è utilizzato per percorsi più lunghi e ad esempio per portare passeggeri da una città ad un'altra quindi è raro anzi assolutamente quasi non probabile che ci siano alcuni passeggeri che scendono e altri che salgono perché solitamente utilizzato per viaggi su prenotazione quindi il gruppo di scolastico che va in viaggio che va in gita prenota una per nota un pullman mi confondo sempre fra pullman e autobus però stiamo parlando di pullman il pullman quindi viene prenotato per una gita o un viaggio di gruppo quindi questo gruppo affitterà il pullman per fare una gita in un'altra città a visitare un'altra città quindi saliranno tutti insieme e scenderanno tutti insieme in una destinazione all'interno del pullman si trovano come abbiamo visto negli altri sedili disposti su file finestrino o corridoio quindi parti laterali parti centrali le rastrelliere sopra per i portabagagli perché come un treno ha bisogno di spostare bagagli perché solitamente si va in gita in un'altra città magari si per notte in un'altra città quindi bisogna portarsi il cambio rastrelliere portabagagli appunto tavolini che si chiudono e si aprono dal dal sedile di fronte e all'esterno sul fianco del pullman c'è una bagagliera dove si vanno a mettere le valigie o i bagagli più grandi passiamo al successivo che è la metropolitana oppure metro in alcune città italiane come milano roma torino bologna o altre ci sono i metro cioè le metropolitane e è molto simile al treno viaggia su binari quindi come il treno viaggia in zone urbane quindi la zona più popolata di una città e alle volte si estende in zone extraurbane periferiche si usano chiamare le linee esattamente come si chiamavano per gli autobus e solitamente sono sviluppate sottoterra quindi si deve andare con un ascensore con le scale sottoterra prendere la con le scale mobili ad esempio prendere la metropolitana e ci si sposta in un altro la metropolitana permette di spostarsi in un'altra zona della città e si risale al suolo per andare a destinazione il luogo il lungo il percorso la metropolitana si ferma nelle varie stazioni o fermate per accedere al metro la metropolitana bisogna passare i tornelli quindi posso entrare se vado a verificare il biglietto obliterare il biglietto oppure ci sono magari delle carte magnetiche che permettono di accedere a scalare quindi con caricabili e ricaricabili che permettono di accedere alla metropolitana e di non essere multati per essere stati beccati senza il biglietto la metropolitana è formata da vagoni o carrozze e questi sono dotati di sedili dove sedersi le maniglie per tenersi con rimano eccetera eccetera come per l'autobus la metropolitana è un mezzo di trasporto rapido ma anche usato frequente e quindi implica molte persone che scendono e che salgono continuamente quindi magari può essere difficile trovare posti a sedere e magari è probabile invece che uno salga in metropolitana e stia in piedi e che quindi debba usare maniglie o corrimano per tenersi e non cadere appunto un altro mezzo ancora in italia è la funicolare lo vedete nella foto praticamente è una specie di trenino chiamiamolo così che non viaggia che viaggia sempre su rotaie ma non viaggia in piano ma viaggia in salita quindi si muove su dislivelli su salite anche su salite e su discese molto ripide perché magari la persona non ne ha voglia di fare strade a piedi o gradini a piedi per salire e quindi la funicolare è solitamente utilizzata per muoversi per spostare le persone che salgono da un livello e vanno ad un altro livello della città come è tipico avere alcune città in italia che sono posizionate su più livelli e quindi bisogna salire ad un'altra in un'altra zona della città ed è formata da vagoni o carrozze esattamente come come per i treni che corrono sui binari come abbiamo detto prima che sono trainati da un sistema di funi quindi ci sarà una fune che ha motore che traina o tira in qualche modo la le carrozze della funicolare quando arrivano su poi le lascia andare e vanno di nuovo nella direzione opposta all'interno può essere dotata di sedili oppure può essere adibita anche al trasporto di passeggeri in piedi quindi come prima abbiamo detto maniglie o corrimano normalmente percorre dei brevi tratti e quindi è probabile che si salga ad un livello e dopo dieci minuti un quarto d'ora si vada ad un altro livello della città come dicevo e si vada e si scenda a quel punto e si scenda dalla funicolare poi si risale per discendere dalla città e andare in un'altra zona ecco il salire e scendere in questo caso vuol dire salire sulla funicolare per salire ad un altro livello della città quindi fare la salita poi risalire o riscendere dalla funicolare per ridiscendere la la zona della città per cambiare cambiare livello della della città nella quale sono posizionate un altro modo mezzo di trasporto noto in italia in una famosa città è il trasporto su acqua e ed è famoso ad esempio lungo i canali di venezia chi non è mai stato venezia chi non ha mai pensato di muoversi in in battello e perché magari si è mosso in gondola ecco questa la battuta allora l'altra il trasporto appunto sull'acqua in questo caso è o su a venezia oppure anche anche attraverso i laghi lago maggiore il lago di garda hanno dei trasporti via battello via motoscafo via motonave via vaporetto che sono tipici mezzi utilizzati nella laguna veneta oppure nelle nei laghi italiani per i tragitti più lunghi invece ad esempio per i collegamenti con le isole viene utilizzato il traghetto il traghetto a differenza degli altri ha la possibilità di far salire non solo passeggeri a piedi ma anche dei mezzi di trasporto dei veicoli come gli auto gli automobili camioni pullman che devono spostarsi da una zona ad un'altra quindi faccio un esempio se devo andare in sardegna mi troverò a livorno a prendere un traghetto e sul traghetto potrò salire sia a piedi come persona fisica oppure potrò salire con l'auto poi quando scenderò in sardegna scenderò con l'auto potrò utilizzare in sardegna l'auto per tutta l'isola quindi questo è la differenza fra una piccola piccolo motoscafo piccolo mezzo di trasporto che adibito per canali veneti di venezia o della laguna oppure un traghetto che è un mezzo molto molto più grande il punto in cui ci si imbarca è il molo di attracco della motonave o del traghetto e che di solito è punto di partenza o di arrivo dello stesso per fare salire i passeggeri quando saliamo su un mezzo di trasporto dobbiamo munirci di biglietto quindi munirci vuol dire possedere quindi comprare un biglietto e averlo sempre in tasca perché dobbiamo solidamente poi obliterarlo come vi ho fatto leggere prima oppure dobbiamo averlo in un altro modo averlo come dicevo una carta magnetica può essere utilizzata in certi casi nelle metropolitane e vengono chiamati ufficialmente questi biglietti o abbonamenti vengono chiamati ufficialmente titoli di viaggio quindi quando passerà un controllore potrebbe in gergo diciamo tipico potrebbe chiedere semplicemente mi mostro il biglietto però potrebbe ufficialmente chiedere il titolo di viaggio che è il titolo che ho acquistato per avere il permesso di poter viaggiare su mezzo pubblico questo titolo di viaggio si deve acquistare in una biglietteria molte stazioni hanno anche delle biglietterie automatiche come quelle che vedete in questa foto quindi metterò la carta di credito o la moneta o le banconote e avrò in cambio il biglietto o l'eventuale abbonamento che mi viene attribuito il biglietto di solito va timbrato obliterato nella obliteratrice prima di salire sul mezzo quindi se salgo sul treno prima di salire sul mezzo dipende da che mezzo se salgo sul treno o sulla metropolitana avrò obliterato il biglietto prima di salire se salgo sul tram o sull'autobus solitamente le timbratrici sono direttamente sugli stessi mezzi quindi non appena salgo devo timbrare perché poi quando passerà un controllore vorrà vedere se il timbro equivale con l'ora in cui sono salito e il giorno soprattutto quando c'è un controllore quindi sui mezzi che controlla i passeggeri che siano in possesso del biglietto o dell'abbonamento e questo sia stato timbrato ho l'obbligo di mostrarlo quindi di dichiarare che ho effettivamente pagato quello che che era il viaggio del mezzo pubblico gli orari di passaggio dei mezzi pubblici sono pubblicati su apposite tabelle si parla di orari di treni orari dei bus orari dei vaporetti per riferirsi a queste tabelle quindi ci sono delle tabelle ben specifiche di solito nelle città oppure ovviamente trovate tutto online su dei documenti pdf o sui siti delle stesse agenzie o società che si occupano dei trasporti cittadini dove vedrete gli orari di partenza e di arrivo di ogni mezzo pubblico i percorsi dei mezzi pubblici che di solito sono chiamati linee sono pubblicati sulle mappe quindi la linea 15 dell'autobus di firenze ci porterà per dire faccio un esempio dalla stazione al duomo e avrò visto su una mappa qual è il percorso che questa linea farà per portarmi alla destinazione a visitare il duomo di firenze quindi alla fine si può dire buon viaggio bene però spero che la lezione vi sia piaciuta che vi abbia insegnato qualcosa sui mezzi di trasporto italiani se ci sono domande mi raccomando non evitate cioè non bloccatevi come sto facendo io nel porvi domande nel pormi delle domande sul canale quindi mi raccomando chiedete se avete dei problemi anche se non avete capito alcune parti del mio discorso mi raccomando seguitemi sul canale youtube o sul blog italiano per tutti ita per tutti scusate punto blogspot.com e vi ringrazio per la vostra partecipazione e ci vediamo alla prossima lezione ciao